Un tragico incidente stradale questa mattina a Pizzoli ha perso la vita una donna di 42 anni, una maestra originaria di Atri, Monica Di Bernardo. Lo schianto è avvenuto fra due auto, una Fiat 600 e una Mini Cooper, questa mattina intorno alle 8 e mezza, lungo la statale 260 Picente che conduce appunto a Pizzoli. C'è un'altra donna ferita in maniera piuttosto grave ma non corre pericolo di vita, una donna di 43 anni di Cagnano. Naturalmente sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 con anche l'elisoccorso, i vigili del fuoco dell'Aquila e i carabinieri della stazione locale per i rilievi.